Noi abbiamo chiesto che Renzi venisse a riferire in Parlamento in tempi rapidi, preferisce riferire alla televisione piuttosto che agli eletti dal popolo. Tuttavia, se ci sarà una mozione di sfiducia, i nostri voti saranno a disposizione, perché pensiamo che sia arrivato il momento in questo Paese di un governo diverso, di fronte a una crisi sociale che si fa sempre più drammatica e a una questione morale che è sempre più forte.